Utili alla vita La via della conoscenza attraverso Attilio M vocedellacuete.vaianochiocciola.gmail.com Non ostinatevi a pensare che la via della conoscenza possa condurvi verso un progressivo spogliamento che vi permetta di offrirvi alla vita diventandole utili Questa pretesa di essere utili alla vita è solo un modo per mettere al centro ancora una volta voi anche se è un centro in cui vi immaginate rimpiccioliti per far sì voi che altro trionfi Quello che vi stiamo mostrando è uno dei tanti processi mentali di mascherato protagonismo che verrà continuamente messo in crisi dal controprocesso della via della conoscenza Qui venite incoraggiati ad osservarvi e a dubitare dei vostri processi mentali per scoprire quei meccanismi che tenete ben segreti per evidenziare tutte le volte che la vostra mente vi trae in inganno e per riconoscere quanto usiate l'altro per sentirvi migliori e quante pretese mettiate in campo nelle relazioni e nel vivere quotidiano Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori